Si tratta di 12 scatti, 12 ritratti, li chiamo non convenzionali, nel senso che non è il classico ritratto. Ovviamente lascio un po' in sospeso la cosa perché ho il piacere che possiate venire di presenza a vedere di cosa si tratta. Lì spiegherò il motivo per cui questi ritratti sono stati realizzati in questo modo. I soggetti sono delle donne del centro coesi di Valderice richiedenti asilo e tra di loro ci sono anche tre bellissime bambine. Il messaggio che vogliamo mandare, ovviamente la mostra è all'interno di un percorso più grande che trova il culmine in questa conferenza che si terrà subito dopo e trattiamo il tema della migrazione. Ma verrà trattato in un modo anche lì un po' anticonvenzionale perché abbiamo pensato di non scadere nell'ovvio e quindi anch'io fotograficamente ho preferito realizzare degli scatti più particolari piuttosto che il classico ritratto a delle donne di colore che comunque hanno fatto un loro percorso per sicuramente trovare una nuova vita. L'obiettivo dovrebbe essere quello di suggerire un modello di integrazione anche se come ho detto in altre circostanze il sostitivo integrazione un po' mi dà fastidio perché integrare qualcuno qualcosa significa considerarne la diversità. Quindi di diversità io non vorrei parlare. Durante la conferenza è stato chiesto l'intervento anche di Maria Angelo Miceli che è un'esperta di diritto internazionale affinché si tendi di combattere contro quei luoghi comuni dell'accoglienza. Quindi ci sarà un focus sicuramente sulle leggi che riguardano e regolano il comportamento della comunità internazionale. Io invece insisterò, lo farò diciamo con la combattività che spero mi possa caratterizzare ancora per molto, insisterò sul tema del colonialismo perché credo che sia la causa di tutti i mali. Noi stessi italiani siamo stati sostanzialmente i colonizzatori di buona parte della Libia. La Libia oggi costituisce un po' quel corridoio migratorio che tanto genera scandalo e che tanto ci fa paura. Però insomma non bisogna dimenticare che fino a qualche anno fa la Libia era un affare da 130 miliardi di dollari per Francia, Stati Uniti, Italia Grazie a tutti.